Siete soddisfatti della qualità della vita a Trapani? Su che cosa bisognerebbe investire secondo voi per il miglioramento della sanità in provincia di Trapani? Quali sono gli elementi positivi e di maggiore soddisfazione del vivere a Trapani? Sono questi alcuni dei temi al centro del sondaggio online condotto dall'Istituto Demopolis in esclusiva per i telespettatori di Telesud. Volete dire la vostra? Potete farlo in meno di tre minuti rispondendo tra oggi e lunedì ai quesiti del questionario online pubblicato in home page sul sito della nostra emittente. Questi alcuni dei quesiti proposti da Demopolis. Quanto siete soddisfatti della qualità della vita nella vostra città? Quanto pesa oggi sulla situazione economica della vostra famiglia l'impatto dell'inflazione e dell'aumento del costo della vita degli ultimi due anni? Su che cosa bisognerebbe investire per il miglioramento della sanità? Quali sono secondo voi gli elementi positivi e di maggiore soddisfazione del vivere oggi in provincia di Trapani? Sarà possibile partecipare sul sito di Telesud per i prossimi tre giorni sino a lunedì sera. I risultati tra una settimana.